Lo schieramento imponente delle forze dell'ordine, il traffico di corso Buenos Aires che procede a intermittenza, striscioni appesi ai pali della luce e passanti che si fermano incuriositi e sguainano il cellulare per riprendere l'insolita scena. È il presidio della Galassia Anarchica che si è data appuntamento giovedì sera a pochi passi dalla sede milanese di Fratelli d'Italia, al Civico 15, della Grande Arteria Commerciale. Un appuntamento per dimostrare ancora una volta la propria solidarietà ad Alfredo Cospito, detenuto anarchico che da quattro mesi è in sciopero della fame contro il regime detentivo a cui è sottoposto nel carcere di opera, ossia il 41 bis, il carcere duro, definito tortura da chi giovedì è sceso in piazza. L'iniziativa fa seguito ad altre simili andate in scena nelle scorse settimane, da quando Cospito è stato trasferito per motivi di salute al carcere di opera. E il ricordo degli scontri avvenuti tra i Navigli e Porta Romana meno di tre settimane fa deve essere ancora parecchio vivido nelle menti di istituzioni e forze dell'ordine, visto lo spiegamento di mezzi e agenti, uno spiegamento che però è sembrato quasi ingiustificato davanti ai circa 50 manifestanti che si sono presentati in zona. Un presidio di solidarietà che è arrivato a poche ore dalla lettera che lo stesso Cospito ha fatto trapelare alla stampa tramite i suoi legali e in cui si dice pronto a morire per far capire a tutti cosa sia davvero il 41 bis. Ma il luogo della protesta, sotto le finestre di Fratelli d'Italia, non è solo un modo per lanciare un appello al governo perché riveda il nostro sistema giuridico, ma anche una decisa protesta per le politiche di immigrazione. Soprattutto dopo il tragico naufragio di migranti a Steccato di Cutro, in Calabria, definito dai manifestanti una strage di Stato.